Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video, ma prima di cominciare con la recensione di oggi, come sempre, sigla! Bene, il film di cui ho deciso di parlarvi quest'oggi, come avrete capito dal titolo qua sotto, è Ghostbusters Legacy o Ghostbusters Afterlife, hanno solamente cambiato nella versione italiana questa seconda parola in inglese. Un film di Jason Reitman ed il terzo capitolo della serie omonima, il Ghostbusters, di cui il primo film è uscito nel 1984, denominato Ghostbusters Iacchiappa Fantasmi in italiano, è diretto da Ivan Reitman. Visto il clamoroso successo che discosse all'epoca il film quando uscì, successo che mantiene tutt'oggi perché è denominato appunto un cult, di conseguenza qualche anno dopo, nel 1989, venne prodotto, venne realizzato il sequel Ghostbusters 2. Iacchiappa Fantasmi 2 in italiano, sempre diretto da Ivan Reitman. Entrambi i film, sia il primo sia il secondo, sono scritti e sono quindi nati dalla mente di The Night Raid, che ha scritto appunto i due film assieme a Harold, il compianto Harold Ramis. Successivamente per molti anni si è parlato della realizzazione di un sequel diretto, è vero c'è stata quell'operazione remake reboot decisamente fallita, flop, fortunatamente, ovvero quando nel 2016 appunto venne realizzato questo remake reboot al femminile di Ghostbusters, diretto da Paul Feige, con attrici del calibro comunque di Melissa McCarthy, Kristen Wiig, un film che però aveva davvero poco a che fare con la vera atmosfera e la vera potenza dei Ghostbusters, nonostante comunque trattasse degli stessi argomenti. Ma appunto, da un lato dico fortunatamente, ha fallito quel progetto perché davvero si discostava troppo, secondo me, dall'idea originale di questo team formato nei primi film dalla storica squadra. Dan Aykroyd e Harold Ramis, che sono appunto coloro da cui è nata proprio l'idea, soprattutto da parte di Dan Aykroyd. A cui si sono giunti poi Bill Murray, che è stato fenomenale, soprattutto nel primo film, nonostante la parte non fosse sua all'inizio, ma di John Belushi, anche lui compianto John Belushi. E infine l'ultimo elemento della squadra, quello che si aggiunge all'interno dei film, è Ernie Hudson. Due film, soprattutto il primo, che fanno parte del panorama mondiale e sono diventati un fenomeno, un fenomeno pop, visto che è uno di quei tanti film da cui è scaturito un merchandising strepitoso. Basti pensare giusto alla maglia che ho indosso in questo video. Ma torniamo al film di cui vi voglio parlare quest'oggi, ovvero di questo sequel. Finalmente un sequel proprio diretto che comincia, diciamo, dove finisce il secondo film. E ci ritroviamo di fronte a una nuova storia, dei nuovi personaggi, sempre alla riscoperta comunque degli acchiappafantasmi. Quindi all'interno di un universo dove ci sono veramente state le invasioni in New York e tutto ciò che è successo anche nel secondo capitolo. Si è cominciato a parlare di un sequel subito negli anni successivi all'89, poi appunto non se n'è mai realizzato uno fino appunto all'operazione già citata nel 2016, fino a quando nel 2019 non è stato affidato il progetto a Jason Reitman. Sì, proprio il figlio di Evan Reitman, il regista dei primi due film. A Jason è stato affidato il compito di coscrivere e dirigere il film, questo nuovo capitolo di Ghostbusters, cercando di dare la nuova linfa vitale a un franchise che, visto anche l'operazione appunto del 2016, sembrava proprio aver perso del tutto, tranne comunque a livello di merchandising, che vanno davvero molto ancora soprattutto per i collezionisti o i veri fan sfegatati della serie. Un progetto nuovo ma che non si dimentica assolutamente il passato. Questa volta abbiamo come protagonista una famiglia, la mamma Kelly, interpretata da Carrie Coon, e i suoi due figli, Trevor e Phoebe, interpretati rispettivamente da Finn Wolfhard, star mondiale oramai, grazie al successo di Stranger Things e dei primi due capitoli di Hit, e Phoebe che è invece interpretata dalla grandissima, soprattutto in questo film, McKenna Grace. Questa famiglia è costretta a trasferirsi a Somerville, questa cittadina sperduta nell'Oklahoma, dove avvengono ripetutamente, spesso durante la giornata, delle scosse molto forti di terremoti, nonostante non sia posta questa cittadina su alcuna placca tettonica, o comunque in una posizione dove sarebbe più favorevole un terremoto. La famiglia si trasferisce appunto in Oklahoma perché senza soldi, è rimasta al verde, e anche per scoprire qual è questa misteriosa e segreta eredità lasciata dal nonno, che è morto qualche settimana prima. È vero, siamo oramai all'interno di un mondo cinematografico e soprattutto televisivo, che è popolato oramai sempre da più prodotti di genere teen, quindi rivolto a un pubblico di ragazzini, ragazzi, e che tratta di cultura nerd, di cultura pop, tutto ciò che riguarda appunto gli anni 80. Basti solo pensare a un Ready Player One o ancora a un Super 8 di J.J. Abrams o anche al forse più citato da tutti, Stranger Things. Fenomeni culturali che parlano di fenomeni pop e culturali. E a questo gruppo si aggiunge naturalmente questo Ghostbusters Legacy. Ma qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che, e si è rivolto principalmente a un pubblico di ragazzi, ma senza forzare troppo la mano. È sì un film con ragazzi protagonisti, ma senza renderlo fin troppo forzato, perché non va a perdere quella stessa atmosfera, quella stessa potenza visiva, che invece restituivano i primi film dei Ghostbusters, che rimanano per sempre sicuramente dei cult, e questo non lo può essere ancora sicuramente, e non ne ha per ora gli strumenti, gli elementi, ma riesce a non dimenticare, come dicevo in precedenza, del passato, riempendo comunque il film di citazioni ai film passati, riempendo anche di easter egg tra quelli più visibili, quelli più nascosti, ma che un vero fan comunque riesce sicuramente a cogliere, ed è un altro film che, come tanti altri durante la pandemia, ha subito le cause appunto di questo Covid-19, quindi è stato rimandato più e più volte. Per questo motivo, finalmente arriva in sala dal 18 novembre, quindi da qualche giorno prima che io giri questo video qua. Sono rimasto piacevamente sorpreso, perché non mi aspettavo che mi potesse piacere così tanto, perché nonostante sia un film che lo si vede proprio, che è realizzato come se fosse dovuto uscire qualche anno prima, qualche anno fa, nonostante appunto sia un progetto in realtà proprio di qualche anno fa, del 2019, sia slittato nel 2020, fino al 2021, fino alla fine di questo 2021. La cosa più positiva, l'elemento più positivo del film, trovo che sia stata proprio la messa in scena, il lavoro che ha fatto Jason Reitman, assolutamente di cuore, perché nonostante sia un'operazione palesemente nostalgia, anche per riportare vecchi fan in sala, ma soprattutto per crearsi nuovi fan, crearsi nuovi appassionati, perché i stessi ragazzini, i ragazzi, tra i 10 e i 15, 16 anni, possono tranquillamente calarsi nei panni dei personaggi protagonisti. A differenza dei primi film dove abbiamo una squadra comunque di adulti, nonostante siano stati capaci di far innamorare del film tantissima gente. La vera amatrice del film è sicuramente il personaggio di Phoebe. McKenna Grace è stata straordinaria nei panni di questa piccola ragazzina, super tosta e appassionata di scienza. Tutti i vari personaggi li ho trovati scritti molto bene e funzionali proprio alla tipologia di narrazione. Vedi ad esempio il personaggio di Paul Rudd, ovvero Gary Gruberson, questo personaggio, questo insegnante presso una scuola estiva che anche lui è appassionato molto di scienza, come la piccola Phoebe, infatti si estende subito a un certo tipo di legame, e che incarna alla perfezione, secondo me, la figura del regista di Jason Reitman, che è da appassionato, da semplice appassionato dei film che ha diretto il padre, è diventato lui stesso il regista e ha potuto portare la sua visione dei Ghostbusters sul grande schermo. Insomma, Ghostbusters Legacy è sicuramente il sequel che tutti i fan della saga, della serie, di questi due film, si meritavano. Da molto tempo. Come vi dicevo, un film probabilmente che sarebbe dovuto uscire qualche anno fa, perché ho anche già letto di tante recensioni negative, di tanta gente che l'ha proprio snobbato in questi primi giorni di uscita al cinema, ma io trovo che, nonostante sia, non dico un fan, però amante dei grandissimi due primi film, nonostante il secondo meno potente, meno cult del primo, e nonostante comunque non sia, sia della generazione dopo, dei fini anni 90, nato nei fini anni 90, quindi non ho comunque vissuto l'uscita di quei film al cinema, mi sono comunque appassionato, appassionato di questa squadra, di queste storie, e trovo che questa sia stata una piacevole sorpresa. Perché, come ho già detto anche all'inizio del video, questo Ghostbusters Legacy, questo sequel, questo terzo capitolo, riesce a restituire quella atmosfera, quella vera essenza che ha reso indimenticabili i primi due capitoli. Un film dove all'interno si vede il cuore che ci ha messo Jason Reitman, e chi ha comunque lavorato al film, perché soprattutto sul finale, che è un qualcosa di davvero gigantesco, a livello di emozioni, e sicuramente a molti farà scendere anche una lacrimuccia, perché è incredibile come sia fenomenale, sia soprattutto per i fan che riescono a rivivere, magari le stesse, non dico le stesse emozioni, ma quasi, e soprattutto per questo nuovo pubblico, che potrebbe appassionarsi tantissimo a queste nuove storie, visto comunque anche un finale, ci sono, mi raccomando, due scene post-credit, una mid-credit, una post, che naturalmente aprono, si sapeva che era prevedibile, che aprissero a nuovi magari capitoli, all'inizio di un nuovo piccolo franchise. Perché, in fin dei conti, questo Ghostbusters Legacy è sicuramente un passaggio di testimone, che tenta di accaparrare comunque il nuovo pubblico, alla fine sono comunque tutte operazioni commerciali, ma lo fa davvero, ripeto, con tanto tanto cuore, con tanto amore verso il cinema, e verso la squadra, verso le incredibili avventure dei Ghostbusters, nonostante sia anche allo stesso tempo un grande omaggio, non solo ai Ghostbusters, ma soprattutto al grandissimo e compianto, ed indimenticabile Harold Ramis. Detto questo, vi ricordo che il film lo trovate in sala dal 18 novembre 2021, non vi trovate personalmente solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram, tutti i link qua sotto in descrizione, se non siete ancora sui siti del canale, iscrivetevi, attivate la campanella. Mi raccomando, se volete leggere un mio parere un po' più approfondito, magari in altri termini, in una versione scritta, potete dare uno sguardo su quarta parete, il sito web, la redazione web, per cui lavoro oltre al canale YouTube, e li trovate appunto nella mia recensione scritta di Ghostbusters Legacy. Non perdetevelo, un grande film, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!